A quasi otto anni dai fatti contestati e con il processo di primo grado ancora in corso, il Tribunale di Bari ha dichiarato la prescrizione di 15 dei 21 capi di imputazione contestati a 9 imputati, tra cui i fratelli Claudio e Giampaolo Tarantini e l'ex direttore generale della ASL di Bari Lea Cosentino, nell'ambito di uno dei filoni su presunti appalti truccati e tangenti nella sanità pugliese. Il procedimento riguarda la gestione delle gare per l'acquisto di attrezzature e protesi sanitarie alla ASL di Bari tra il 2008 e il 2010. Gli imputati sono accusati di aver fatto parte di una presunta associazione per delinquere finalizzata a decine di episodi di corruzione. Molti dei reati però sono stati dichiarati prescritti. Il processo che tornerà in aula per la requisitoria dell'accusa il 16 maggio proseguirà nei confronti di otto dei nove imputati. Tra questi, oltre ai fratelli Tarantini e a Lea Cosentino, l'allora capo area, gestione patrimonio della ASL di Bari, Antonio Colella, Francesco Lippolis, direttore amministrativo della stessa ASL, Michele Vaira, funzionario della ASL di Bari, Sabina Ilaria Tatò, fisiatra barese, e Vittorio Patella, direttore della seconda clinica ortopedica del Policlinico di Bari. Nei loro confronti restano in piedi, contestate a vario titolo, le accuse di associazione per delinquere, un episodio di peculato, uno di falso e truffa, e due presunte corruzioni. Nel processo si sono costituite come parte civile la regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari.